Musica Prosegue il nostro viaggio per presentare il nuovo consiglio d'amministrazione della Cassa Mutua Valsugana e Tesino. Oggi siamo a Borgo Valsugana per conoscere il professor Cristian Prai. Grazie per aver accettato il nostro invito e le chiediamo subito perché ha deciso di far parte della Cassa Mutua e perché soprattutto questa nuova realtà anche in Valsugana. Perché c'è bisogno di riacquisire l'idea di far parte di una comunità. La Cassa Mutua Valsugana e Tesino è infatti per prima cosa un'associazione di promozione sociale che in quanto tale persegue degli obiettivi collettivi, non personali. Questo significa cercare di dare delle risposte concrete alle esigenze delle singole persone sì ma in un contesto più allargato a comprendere anche la società di cui si fa parte. Professor Prai, cosa può significare una Cassa Mutua per il suo territorio? Si è sottolineato come la Cassa Mutua sia per prima cosa un'associazione di promozione sociale che in quanto tale si pone l'obiettivo di far progredire e promuovere il territorio di cui fa parte. Nel concreto questo significa agire secondo un'ottica di miglioramento delle condizioni sociali dei propri iscritti cercando di instaurare un confronto proficuo con enti e associazioni del territorio. Solamente in questo modo è infatti possibile comprendere a pieno le esigenze della collettività cercando di fornire delle risposte adeguate e concrete. Professore, un'ultima domanda. Ma perché chi ci ascolta dovrebbe aderire alla nuova Cassa Mutua Valsugana e Tesino? Un'adesione quantitativamente importante significherebbe dare vita ad un progetto solido e collettivo che vada oltre il mero vantaggio personale. Significherebbe, detto altrimenti, unire le forze del territorio per dare vita ad un progetto che sia significativo anche sotto il profilo qualitativo, non soltanto quantitativo. E in questo il ruolo giocato dalla Cassa Rurale non è affatto secondario. Infatti si offre di coprire il 50% della quota richiesta dalla Cassa Mutua a tutti i propri soci rendendo in questo modo ancora più accessibile questa quota per tutti coloro che sono interessati ad un progetto ben fatto che guardi al futuro.